In Toscana si giocherà un pezzo importante della partita contro il coronavirus. Nei laboratori di Toscana Life Sciences, Polo Tecnologico e della Ricerca sulla Scienza della Vita, a Siena, sarà sviluppato un farmaco per curare il Covid-19. Il governo italiano ha deciso di stanziare 80 milioni di euro nel 2020 per finanziare le ricerche presso il Polo Senese e 300 milioni per il 2021. Adesso sono state annunciate ulteriori risorse per il farmaco anti-Covid. Tra i principali progetti a cui il team di ricercatori e scienziati del TLS sta lavorando c'è il MAB COD-19. Il progetto prevede di affiancare al gruppo di ricercatori che opera allo sviluppo di anticorpi monoclonali e vaccini diretto da Rino Rappuoli, un impianto capace di produrre lotti pilota per la prova clinica sull'uomo e un numero sufficiente di dosi per un primo intervento a supporto di eventuali emergenze sanitarie. All'interno del Polo operano più di 400 addetti e il 36% del personale impegnato in attività di ricerca e sviluppo. Dal 2007 ad oggi la Fondazione Toscana Life Sciences ha tratto e generato risorse per oltre 211 milioni di euro.